salve care amiche e cari amici questa mattina ho registrato e caricato in youtube l'ennesimo video sul referendum poi però all'ora di pranzo mi è arrivata una letterina l'ho aperta ed era il nostro caro matteo renzi qua siccome lui è modesto si è messo la sua foto assieme a tutti i leader degli altri paesi eccolo non so se lo vedete lui è molto modesto addirittura c'è una foto sua che lo ritrae assieme a obama ma la cosa più inquietante è che già ti mandano una suggerenza fin troppo evidente di voto di dove c'è scritto basta un sì e ti fanno vedere già la scheda elettorale premarcata nel sì cioè ti dicono come votare non è che ti parlano del referendum e ti informano ti dicono come votare ti dicono che devi mettere un sì direttamente ti fanno vedere metti un sì e già in linea di principio è un oltraggio alla privacy perché dovrebbero dire le ragioni tanto del sì come del no poi dietro c'è un enorme spiegazione alle ragioni del sì che non spiegano quali saranno i veri cambi referendari sulla costituzione ma spiegano le loro ragioni del sì e dicono sempre ci date una mano basta un sì cioè non ti dicono realmente che cosa cambierà no nulla è così che ci trattano all'estero basta un sì io mi ricordo come quelli del pd criticarono silvio berlusconi quando anni fa che stava al governo mandò milioni di sms ai cellulari per fare propaganda politica e tutti dissero che era un interferenza nella privacy degli italiani perché il primo ministro non può fare il presidente del consiglio dei ministri non può fare pubblicità attiva per una posizione politica non so se era un referendum o contro il nucleare o erano delle votazioni delle si votava le elezioni amministrative o politiche però lui mandò centinaia di migliaia di sms lo criticarono silvio berlusconi giustamente adesso che significa che il presidente del consiglio dei ministri matteo renzi ti manda questa immagine di di scheda referendaria già marcata sul sì perché tu copi quello che loro vogliono che tu voti che significa questo questo fatto qua non devono mandarlo così devono mandare un'informazione neutrale invece fanno quello che cavolo gli pare che mi stanca un po il braccio io se avessi saputo questo la mattina lo avrei incorporato nel video invece mi è arrivato quando il video l'avevo già caricato in youtube riprenderò l'argomento successivamente vedendo poi come questa lettera abbia potuto influire sul voto degli italiani all'estero spero che gli italiani all'estero ragionino col loro cervello e pensino che se il presidente del consiglio dei ministri ha bisogno di questi trucchetti per raccogliere dei sì vuol dire che bisogna votare no perché c'è un inciucio c'è qualcosa sotto che non va dobbiamo essere liberi d'indipendenti ma adesso finisco col video ti saluta qui il vostro amico saint jean perché altrimenti caricarlo nelle reti sociali si farà un problemone allora tanti saluti e non dimenticatevi di passare per il mio canale di youtube saint jean li troverete molti video referendari su questo referendum della costituzione della repubblica italiana e su altri ciao